E saluto a tutti per i ritrovati in questo nuovo puntamento con Apple Zain Oggi andremo a fare il primo video confronto di Apple Watch SE vs Apple Watch Serie 5 Ma andiamo a scoprire le differenze fra questi due smartwatch Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video O prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net Che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia È disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko-Zain Dove ogni giorno in direct do assistenza per i vostri problemi di iPhone, iPad, Mac Ma anche sconti, offerte, anticipazioni e molto molto altro Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare proprio di questo Apple Watch SE Il nuovo economico Apple Watch Ma è arrivato sul mercato perché non c'è mai stato un Apple Watch definibile proprio economico Molto più potente della Serie 3 Potente quanto la Serie 5 Ma oggi lo confrontiamo proprio con la Serie 5 Vale la pena cambiare dalla Serie 5 ad Apple Watch SE? Andiamo a scoprire insieme Allora ragazzi, eccoci qui Sono sulla mia postazione Ho in mano Apple Watch SE sulla sinistra Ed Apple Watch Serie 5 sulla destra Intanto andiamo a vedere le differenze estetiche fra i due prodotti Che sono praticamente inesistenti Nel senso hanno lo stesso identico design e lo stesso identico spessore Praticamente non ci sono modifiche tra i due dispositivi che risultano essere praticamente identici Come potete vedere Poi esistono per entrambe le versioni la 44 mm e la 40 mm Che ovviamente si differenziano per dimensioni complessive della cassa Ed entrambi hanno un display retina OLED LTPO Con un'illuminazione massima di 1000 nit Veramente ottimo Sotto la luce del sole si vedono entrambi veramente veramente bene E anche qui abbiamo però una differenza Ovvero l'Always On Display Cosa che non è disponibile sulla versione SE Ma che è disponibile sulla versione 5 Quindi sulla Serie 5 In pratica come avete appena visto SE si spegne dopo un po' Quindi il display si scurisce totalmente Mentre con l'Always On Display prima viene affievolito Ovviamente possiamo impostare e scegliere in base ai nostri gusti Ma effettivamente i due display si differenziano per questo Perché uno dei due rimane sempre attivo Anche quando diciamo finisce il classico tempo in secondi del blocco schermo Ma parliamo poi di prestazioni Entrambi gli Apple Watch montano un processore S5 Ovvero la quinta generazione dei processori per Apple Watch Che praticamente rendono questi due smartwatch identici Praticamente appunto in tutte le loro prestazioni Infatti li sblocco e andiamo a vedere effettivamente Le differenze fra le prestazioni di sistema Facciamo uno scroll verso l'alto Uno scroll verso il basso Cioè vediamo di fare su entrambi i dispositivi le stesse identiche cose Infatti facciamo così Torniamo al menu Andiamo sulla sinistra Andiamo sulla destra Andiamo sulla sinistra Andiamo sulla destra Su Giù Girovaghiamo un po' Le prestazioni sono effettivamente identiche Facciamo l'avvio di un'applicazione Apriamo le impostazioni Spero di poterlo fare in contemporanea 3, 2, 1 Via Ok impostazioni aperte Anzi addirittura sembra più veloce se è Ma vi spiegherò anche il perché Andiamo ad aprire la sezione notifiche 3, 2, 1 Via Ok sono istantanee qui Torno indietro Facciamo uno scroll su entrambi E' veramente veramente veloce Guardate come scrollano velocissimi questi due smartwatch E torniamo indietro Ed andiamo a provare un'altra funzionalità Ad esempio apriamo l'applicazione sveglia 3, 2, 1 Via Aperta in contemporanea Stavolta si è aperta leggermente prima sulla serie 5 Ma praticamente ragazzi le prestazioni sono identiche Andiamo ad aprire ad esempio le applicazioni di default Come ad esempio la calcolatrice 3, 2, 1 Via Si apre leggermente più velocemente sulla serie 5 Ma ripeto è questione di caricamento dati In questo caso Andiamo ad aprire il calendario 3, 2, 1 Via Si apre il calendario infatti in modo sincronizzato Magari forse sbaglio io leggermente Ma le prestazioni ragazzi sono esattamente le medesime su entrambi i dispositivi Poi andiamo a parlare di caratteristiche fondamentali Ovvero entrambi hanno la corona digitale Come potete vedere tutti e due della stessa tipologia Non ci sono variazioni sotto questo punto di vista Ma abbiamo anche il rilevamento cadute Su entrambi gli Apple Watch Che permette di capire quando cadiamo E ci permette anche di chiamare i soccorsi eventualmente Se abbiamo dei problemi poi fisici Abbiamo una resistenza all'acqua IP68 Fino a 50 metri di profondità su entrambi Quindi identica impermeabilità Cardio, frequenzimetro, ottico di prima generazione per l'SE Mentre la nuova e seconda generazione per la serie 5 Perché si è avviato un timer? Non lo so Che ci permette ovviamente di avere una maggiore precisione Su quello che è il nostro calcolo del battito cardiaco Ci permette di valutare eventualmente tramite le notifiche di battito irregolare Quindi ritmo irregolare O anche di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa Altra differenza La serie 5 rispetto all'SE ha un'altra funzionalità Ovvero l'ECG Ovvero il sensore che permette di captare il nostro elettrocardiogramma Che è integrato sulla serie 5 all'interno della corona digitale Mentre qui non è assolutamente integrato Infatti se noi andiamo a cercare l'applicazione Invece qui sulla serie 5 troviamo l'applicazione ECG Mentre dall'altro lato no Ed eccola qui Qui abbiamo l'applicazione ECG Mentre qui purtroppo non è disponibile Disponibile ripeto solo la frequenza cardiaca Cosa che ovviamente non dovrebbe inficiare sulle prestazioni del sistema Anzi vi dirò di più Questo smartwatch ovvero SE Con la non presenza di questo sensore A parte che è leggermente più leggero Ma a parte questo Vi posso dire che il sistema ne giova Perché avendo una funzionalità in meno In questo caso la serie SE Il sistema viene ottimizzato maggiormente Vi spiego perché Perché ha una componente hardware in meno E quindi non deve il software appesantirsi in questo modo Infatti fra poco parleremo di durata batteria E SE batte di gran lunga la serie 5 Poi andiamo a parlare di colori Sono disponibili tre diverse colorazioni per entrambi Ma per la serie 5 c'erano diverse colorazioni nuove Qui abbiamo la versione dorata Ma è disponibile su SE anche la silver e la space grey Vi dico inoltre che per questa versione è disponibile solo il materiale in alluminio Quindi non esiste l'acciaio per la versione SE Mentre qui abbiamo silver, gold, space grey Ma abbiamo anche la versione white Che è la versione in ceramica che è stata rilasciata l'anno scorso Che quest'anno purtroppo non è più presente Come si ricaricano questi due Apple Watch? Allo stesso identico modo con il cavo magnetico Che si collega proprio sul retro Molto semplice, molto rapido Qui non è cambiata assolutamente nulla Poi parliamo finalmente di durata batteria ragazzi Durata batteria Beh, con la serie 5 e gli ultimi aggiornamenti Watch OS 7 Riesco a fare una giornata piena Ma più o meno una giornata piena Vi spiego perché Perché la serie 5 sì Ancora ha un'ottima durata Ma fin dalla sua uscita Come dissi nella recensione l'anno scorso Non ha reso come ad esempio la serie 4 Però Apple ci viene in soccorso Perché quest'anno l'SE Con le stesse caratteristiche hardware Più o meno, ripeto, della serie 5 Ha una batteria maggiore Vi faccio un esempio pratico Per farvi capire la differenza sostanziale Se con questo io dalle 8 di mattina Riesco ad arrivare più o meno a mezzanotte Con questo riesco a sforare E vado addirittura alle 4-5 del mattino Quindi qualche ora in più Nettamente evidente Che segnala un incremento delle prestazioni Ripeto, a causa del fatto che Non c'è l'always on display Non c'è il sensore CG Quindi il sistema viene ottimizzato In maniera maggiore E entrambi sono disponibili Solo nella versione da 32 GB Ma qui c'è una differenza di prezzo Perché io vi parlo delle versioni Diciamo più economiche Ma effettivamente io ho Su entrambi i dispositivi La versione da 44 mm Però la versione SE parte da 309 euro Un prezzo veramente incredibile Come ho detto nella review completa O comunque dovrebbe uscire fra poco la review completa E quindi cioè Veramente imbattibile come prezzo Mentre questo all'uscita Nella versione da 40 mm Aveva un costo di circa 439 euro Quindi praticamente 100 e passa euro In meno nelle versioni incredibili Questo ripeto ragazzi è uno smartwatch Creato apposta per chi vuole entrare adesso Nel mondo degli Apple Watch Mentre questo ovviamente è un po' più professionale Ci sono delle funzioni mediche Che comunque sono utili Ma non servono forse a tutti E quindi ragazzi Io appoggio i due Apple Watch E andiamo alle conclusioni finali Beh cosa dire di questi due piccoli gioiellini Sono fantastici entrambi Mi sono innamorato di SE Perché l'essere economico Più avere delle prestazioni veramente importanti Sia per quanto riguarda la durata batteria Sia per quanto riguarda le prestazioni in generale Secondo me a quel prezzo Sono veramente incredibili Però vi posso dire che Se avete già una serie 5 Chiaramente non ha assolutamente senso Comprare un Apple Watch SE Perché ripeto Alle stesse identiche prestazioni Sì ha un po' di batteria in più Ma fondamentalmente Secondo il mio modesto parere Per quanto è costata la serie 5 Poi con l'aggiunta anche delle CG E comunque di aggiornamenti sempre prestanti Non vale la pena passare ad SE Che secondo me è leggermente una spanna sotto La serie 5 Perché fondamentalmente Avere uno smartwatch più completo Beh fa tantissimo Ed in questo caso la mancanza delle CG Come di qualche altra piccolezza Come ad esempio le nuove Watch Face Perché le nuove Watch Face Come le Watch Face con le Animoji E tanto altro Sono disponibili solamente sulla serie 6 La nuova serie 6 Ed ovviamente anche sulla versione SE In questo caso Infatti io utilizzo anche sulla serie 6 Le nuove versioni Ma poi andremo a vedere il video Dedicato anche per questo Quindi ripeto No cambio Apple Watch serie 5 Con SE Perché secondo me Ci rimettete solamente Ha più funzioni La serie 5 E quindi magari vi mancheranno Su SE Ma comunque ragazzi Vi ricordo che qui sotto in descrizione Trovate l'acquisto Sia della serie 5 Sia di SE Con un piccolo sconto Su Amazon E io come al solito ragazzi Vi saluto Vi ringrazio ovviamente Per aver visto questo nuovo video Come al solito Arriviamo a 300 mi piace Per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Mirko Per AppleZin.net E ciao Scarica anche tu iAppZain Ovvero l'applicazione Più votata positivamente Su App Store Per le Apple News italiane E anche la più scaricata D'Italia È disponibile su App Store Gratuitamente Cerca iAppZain Ed è disponibile Anche per il tuo iPad Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio Nella vita privata? Seguimi su Instagram E non te ne pentirai Grazie ad AppleZin.net Puoi usufruire Fino al 60% di sconto Sui prodotti Amazon Ed il link Lo trovi qui sotto In descrizione O sotto al logo Del nostro sito AppleZin.net Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti